Buongiorno da Canale Sicilia, stamattina siamo a Liaga di Piraino alla caffetteria La Capannina e sono in compagnia del proprietario e nonché gestore del locale, il signor Antonino Faranda e del professor Riccardo Ferlazzo. Siamo qui perché siamo alla vigilia della seconda edizione del premio letterario La Capannina e quindi volevamo un po' presentare questa seconda edizione. Volevo chiedere appunto al signor Antonino Faranda che è il proprietario della Capannina, del locale, come mai appunto si occupa di cultura e ha dato vita a questo caffè letterario. Allora, quest'idea nasce dall'ambientazione di questa struttura che man mano con l'aggiunta di gazebo, del verde, fiori e quindi che dà disponibilità a una location molto comoda e garbata e mi ha dato spunto di dedicare ampi spazi per dei libri e delle riviste. Quindi in questo contesto, con un incontro avvenuto anche per caso del professor Ferlazzo, avendo per caso trovato delle sue opere scritte qui proprio nel mio locale con una collaborazione con il signor Armenio, l'editore di Brolo. E allora trovando questi libri suoi qui, ci è venuta quest'idea, diceva perché non allargare e migliorare, addirittura incentivare un premio letterario in questa occasione, in quest'ambito. Quindi è nata questa collaborazione con il professore Ferlazzo e abbiamo dato l'anno scorso, nel 2012, in occasione del decimo anniversario di questa gestione, e questo premio letterario, il primo, l'anno scorso, e la seconda edizione che avverrà nel mese di giugno, esattamente il 15. Questo è il tutto. E se il signor Faranda è il braccio, diciamo così, del premio La Cappannina, sicuramente qui accanto a me c'è la mente, il professore Riccardo Ferlazzo, giornalista, scrittore, artista eclettico direi, perché si occupa anche di fotografie e di tante altre cose. Allora, professore Ferlazzo, come sarà questa seconda edizione del premio? La seconda edizione del premio, dobbiamo dire, ti ringrazio, Dio ti ringrazio perché siamo arrivati alla seconda edizione. Abbiamo avuto un numero di partecipanti due volte, più di due volte superiori a quelli della scorsa edizione. E tenendo conto che le specializzazioni, cioè le articolazioni del premio, restano sempre quelle, cioè un romanzo breve, un racconto breve e una silloge poetica. Devo dire che l'anno scorso il nostro premio era nato per favorire i giovani, senza però preclusione alcuna per tutti gli scrittori, e invece inaspettatamente l'anno scorso vinse un giovane signore che ha la bellezza di 76-73 anni, credo. E' il signor Giuseppe Valenti che vinse con il noce dell'acqua canale. Quest'anno abbiamo avuto tantissime iscrizioni, anche per questo siamo stati costretti a postergare di 15 giorni, perché i giudici, i lettori del premio che sono dislocati Palermo, Catania, Siracusa e la zona provincia di Messina, impegnati anche loro, professori, docenti, in scrutini e cose, dicono che non possiamo sobbissare a leggerci tutte queste cose qua. E quindi hanno chiesto una proroga. Quindi si farà il 15, come ha detto prima, il mio braccio. Devo dire che Nino è un eroe, effettivamente. È un eroe perché è già difficile a giorni oggi trovare un imprenditore che si dedichi a qualcosa di culturale. E mi credo, se uno fa cultura non guadagna una lira, noi non guadagniamo un centesimo. Lei ha citato esattamente Nino, Nino ha parlato di l'editore, Armenio, poi nel sottoscritto, ma io devo ammettere anche che fra gli altri ideatori la quarta persona, noi siamo i tre moschettieri più quattro, allora è Pierluigi Cammeri, l'architetto Cammeri, nonché precedente dell'Associazione Sacchè. Quindi a questo punto, quest'anno ripartiamo con grandissima sorpresa nostra, con più l'entusiasmo, e dicendo che le opere pervenute sono di gran lunga superiori a quelle dello scorso anno. Noi sappiamo già chi è il vincitore, non ve lo comunichiamo ovviamente, ma è un giovane, ecco è un giovane, è un giovane e basta, non vi dico nient'altro. Inviterei tutta la cittadinanza e non solo, ma tutti gli abitanti del comprensorio della provincia di Messina, di venire eventualmente al giorno della primazione che si effettuerà il 15, e ovviamente negli spazi che avremo a disposizione, che potrebbero essere sia quella parte del viale che il Comune ci metterebbe a disposizione come l'anno scorso, Bontalloro, e Bontalloro anche quest'anno, che ringraziamo già adesso, o se no un'altra struttura laddove le condizioni del tempo non ci consentissero di svolgerlo all'aperto. Dopodiché, ecco, ci saranno degli ospiti d'onore, però non vi dico i nomi perché stiamo puntando molto, ma molto, ma molto, ma molto in alto. L'unico problema è il Salone del Libro di Torino, dove questo personaggio che dovrebbe arrivare qua è impegnatissimo perché le sue opere letterarie stanno vendendo tantissimo, è al secondo posto nelle classifiche italiane per quanto riguarda la narrativa e non vi dico chi è, ma chi legge potrà capire e intuire chi è al secondo posto nella narrativa. Vi ringrazio, siete molto gentili. È ad mai ora. Allora, appuntamento agli amici di Canale Sicilia il 15 giugno qui alla capannina Agliaga di Piraino per la seconda edizione del premio letterario. Arrivederci. Grazie. Grazie.